Un sostegno concreto al mondo dello sport feltrino. La Giunta Comunale ha approvato la graduatoria definitiva relativa ai contributi alle associazioni del territorio per il 2020. Le varie realtà, come noto, sono state messe a dura prova dalle conseguenze della pandemia. Il bilancio di previsione 2020 metteva a disposizione delle associazioni sportive circa 25.000 euro, una posta ormai consolidata negli anni. Nel 2020, appunto, visto l'emergenza Covid, il Consiglio Comunale, all'unanimità, ha deciso di implementare questo fondo e portarlo circa a 80.000 euro, un'ingente somma consci di un aiuto importante che avremmo potuto dare alle associazioni sportive della nostra città. Andremo a rogare, dopo il bando e dopo l'avviso, circa 60.000 euro e a circa 15 associazioni sportive feltrini, sia indoor che outdoor, le quali, appunto, hanno fatto richiesta di contributo. Chiaramente, come possiamo sapere, tutti quanti il 2020 è stato particolarmente difficoltoso per queste associazioni, maggiori costi legati alla sanificazione degli locali, minore attività sportiva, a fronte magari di spese di gestione di strutture altrettanto consistenti, ma anche minor numero di tesserati e minore attività in generale. Quindi l'auspicio è quello di poter aiutare queste nostre associazioni che tanto fanno per il territorio, per i nostri giovani, per le nostre attività, al fine di avere un aiuto e lenire le difficoltà che il Covid ha generato.